Musica 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 Buoni amici che da un po' di tempo aveva cominciato ad affrontare questo argomento e quindi abbiamo deciso, siamo diversi di noi, siamo insegnanti, abbiamo deciso di fare la nostra parte in questo frangente e qui abbiamo detto, abbiamo capito alcune cose e facciamole capire pure gli altri. Allora intanto giusto per fare il punto della situazione, questo signore Enzo Prosperi ha 61 anni ed è un ex imprenditore che fa il barbone in giacca e travatta nella piazza del Duomo di Milano, qui ci sono il numero delle aziende che sono state chiuse negli ultimi anni, quindi 12.000 aziende, più di 1.000 aziende al mese, nel 2013 si sono stati chiusi 13.750 esercizi commerciali turistici, abbiamo un suicidio ogni due giorni e mezzo perché la crisi uccide molti imprenditori, questo è il tasso dei suicidi totali che è aumentato da quando c'è la crisi. Poi abbiamo anche fallimenti, prima la Rombardia, Veneto, insomma le imprese che falliscono sono soprattutto quelle ricostruzioni vendite all'innosso a dettaglio, metallurgia, insomma alimentare testi di abbigliamento, praticamente abbiamo perso come se fossimo andati in guerra. Allora, poi sappiamo che ci sono state delle, ci sono, eh? Dall'altra parte. Senti, fai, fai tu con. Insomma ogni tanto ci sono questi movimenti di massa e la gente prende le volte. Allora questo è il passaggio fondamentale. Da quando la crisi non è iniziata nel 2011, però diciamo così che da allora abbiamo cominciato ad avere dei governi tecnici. Allora, quando abbiamo avuto il primo governo tecnico nel 2011 avevamo 1.890 miliardi di debito. Nel 2012 sono diventati 2014, poi sono diventati 2076. Il 20 marzo mi sono collegata con un sito dove ci sono i conteggi della crisi. Noi siamo al 20 marzo, due giorni fa, 2.115 miliardi. Quindi nonostante i tagli, nonostante la vendita del patrimonio pubblico, nonostante adesso ci saranno ancora o più i tagli, il debito non solo non diminuisce ma aumenta. Quindi c'è un qualcosa in questo meccanismo che occorre capire. Allora, quindi, peraltro nei prossimi anni noi andremo a pagare 180 miliardi di euro l'anno perché noi abbiamo sottoscritto il MES, abbiamo sottoscritto il Fiscal Compact, abbiamo sottoscritto quest'altro fondo che è il fondo della rinascita, no, aspetta che non mi viene in questo momento il nome, vai avanti ancora. E noi abbiamo voluto utilizzare lo spazio esterno, la piazza, perché in piazza ci vengono tutti e abbiamo visto come l'anno. Inoltre dovremmo pagare, guardate un po' con gli interessi sul debito che pagheremo. Fino al 2015, noi nel 2015 pagheremo 105 miliardi di euro di interesse. È chiaro che così non se ne può uscire fuori. Vuol dire che c'è un meccanismo che va modificato. Queste sono altre spese, 230 miliardi distanziati per la difesa, evasioni, varie, grandi evasioni, non le piccole evasioni della gente che deve sopravvivere, quindi evade necessariamente. Le AAMS sono le lotterie, le slot machine, tutti i giochi. E poi, miliardi, miliardi, che noi ancora dovremmo pagare. Allora il discorso è che l'Italia, da quando è iniziato questo debito pubblico che è dal 1981, ha pagato 3100 miliardi di euro di debito, che significa che noi abbiamo strappagato il debito che secondo noi, secondo qualcuno non è iniziato. Allora, il motivo vero è che noi, gli stati, compriamo la moneta dalla banca centrale. È come se una famiglia va in banca, fa un mutuo e vive di quel mutuo. Poi deve fare un mutuo più grande, pagare pure gli interessi e vivere di quell'altro mutuo. Invece, con una moneta, quando lo Stato emette la sua moneta, lo Stato non si indebita, a meno che non si indebiti con i cittadini stessi, come quando avevamo il BOT e noi facevamo i nostri risparmi con il BOT. Allora, io chiudo e do la parola. Adesso mi presento i relatori. Lei, la dottoressa, mi presenti. Io sono Angela Carolina Bartaleo, sono un medico e una scrittrice, perché non mi conosce. Questo è un argomento che io seguo da tantissimi anni. Non per un caso uno dei romanzi che sto scrivendo è proprio sulla contaminazione d'alluminio dei terreni, sui quali poi facciamo vascolare i nostri animali. Vi chiedo scusa se qualche slide è in inglese, ma noi siamo sempre, noi prendiamo dall'estero sempre il peggio, velocemente, e quello che c'è di buono con estremo a ritardo. Comunque le truco io di volta in volta. Ippocrate diceva che noi siamo, il cibo è la nostra medicina e la medicina è il nostro cibo. Oggigiorno tutto il 95% delle malattie è legato appunto alle società alimentari di Baccia. Soprattutto in questi giorni, proprio ieri, con un dato allarmante, dal 35 al 45% dei bambini in Italia è obeso. Che differenza c'è tra una persona normopeso e una persona che è suo in sovrappeso? Una persona normopeso è una persona che ha un rapporto con se stesso, mangia cibi che non sono industrializzati, fa movimento e praticamente ha un rischio di andare incontro a patologie tumorali, cardiovascolari e endocrine nettamente ridotto a un paziente sovrappeso. Noi abbiamo la fortuna di vivere una persona che è di tetrano dove la dieta alimentare è una dieta estremamente equilibrata, a differenza di quello che accadeva nei paesi del nord Europa, dove il freddo e il non avere il sole e quindi dei periodi di agricoltura prolungata facevano sì che la dieta fosse completamente diversa. Se vi chiedi di acqua al giorno, quindi non bisogna bere i litri che dicono i giornali, perché il discorso dell'acqua è un discorso lunghissimo che non affronteremo stasera, vi darò soltanto delle piccole indicazioni, poi ognuno di voi andrà o a cercare oppure mi contatterà per approfondire. L'attività fisica regolare, questo significa 20 minuti di passeggiata al giorno, li dovremmo fare tutti quanti, è la base della nostra piramide. I cereali, il riso e le patate dovrebbero essere in ognuno dei tre pasti che dobbiamo consumare giornalmente, mentre la frutta e le verdure dovrebbero essere consumate al posto degli spuntini e dovrebbero accompagnare il pasto. Settimanalmente vanno mangiate i carni bianchi, i latticini, poi il discorso dei latticini poi lo prendiamo dopo perché purtroppo non sono più i latticini prodotti dal contativo, sono latticini industriali. Il pesce, le uova vanno mangiate una volta alla settimana, perché noi nei legumi abbiamo l'apporto che è sufficiente per il nostro organismo, noi siamo iperalimentati, non c'è necessità di mangiare tanto quanto mangiamo. E la carne va utilizzata, la carne rossa, quindi carne bovina, carne bovina, carne sciurina, va utilizzata soltanto raramente. Quindi per esempio la Coca Cola, gli snack che noi propiniamo ai nostri ragazzi nei momenti di pausa, come merendina, sono veramente da destinare a un uso occasionale. Quindi siamo quello che mangiamo, purtroppo andiamo incontro, questo è ironico, ma purtroppo è così. Perché c'è questa abitudine di mangiare più snack pronti a alto indice sia glicemico che di grassi, ma perché purtroppo l'industria ci porta là dove vuole condurci. Di conseguenza un cheeseburger è una bevanda gasata prodotta con l'esuvero di quanto si produce con il mais, poi ci dormiremo, costa molto di più di un'acqua, per esempio, non di quelle accede che beviamo tutti i giorni noi, ma un'acqua tipo quelle che utilizziamo e compriamo dalla farmacia quando stiamo male, che sono acque basiche, che purtroppo hanno determinati costi, perché non sono, sono acque che veramente hanno delle caratteristiche. Un'insalata costa 65 euro, per cui è chiaro che anche dal punto di vista economico è più facile mangiare un'alburga piuttosto che chiedere di mangiare un'insalata. Quindi noi tutti quanti siamo condizionati dal mercato, il mercato che fa di noi semplicemente dei numeri, il codice a bar, no? Come se fossimo dei prodotti da vendere e utilizzare. I bambini sono le prime vittime di questo mercato assassino, perché loro sono i primi fluidori di quanto viene deciso. È il modello che noi abbiamo, è un modello devastante. In questa immagine è chiaro quello che viene trasmesso ai bambini. Tutta la famiglia davanti alla televisione, telecomando in mano, patatine, gommose, bevande cassate. Peppa Pig, che in questo momento è un pazza, che cosa beve? Beve bollicine, beve sicuramente cibi congelati, la pizza congelata, insomma, non calte in America. E poi le verdure e i pomodori presenti tutto l'anno. In questo la scritta in giallo dice che queste compagnie non applicano l'etichetta di OGM. Che cosa vuole dire? Che quando noi la mattina diamo ai nostri bambini il latte con i cereali, siamo convinti di aver fatto un grave atto salutistico, insomma. E invece la Kerlox è direttamente legata a quelli che detengono il potere sia in campo, e qui vi parlerà un relatore che mi seguirà. Se voi vedete c'è la Bayer, c'è la Rippon, c'è la Cinghietta. La Cinghietta è un'azienda, azienda in Svizzera, che si occupa sia di agribusiness che di farmaceutico. Allora, com'è possibile che un'azienda che produce industrialmente dei prodotti alimentari, che regola l'attività dell'agricoltura, sia poi interessata a produrre farmaci? La Strezza, per esempio, che è una grossissima azienda, fa parte del gruppo Singhietta. C'è la Monsanto, c'è la Risplè. Gli interessi della Risplè sono terribili. A un certo punto nella storia dell'umanità l'uomo interviene su quel suo cibo che mangia. C'è stata una selezione, prima gli uomini erano migranti, seguivano la stagionalità, dove trovavano, mangiavano, che sono diventati pastori, sono diventati contadini e hanno cominciato ad utilizzare i semi per poter avere un prodotto standard calmente. Da pochissimi anni, perché si tratta più o meno dalla metà del secolo scorso, l'uomo decide di intervenire su quello che si mangia, anche se diciamo che la genetica è anche precedente. Una delle aberrazioni più terribili. I pediatri, io sono un medico, io mi sono dissociata già durante il corso di laurea, dopo quelle specializzazioni è stato proprio un gap terribile tra me e chi mi indottrinava, perché di indottrinazione si deve parlare. Il lattante va da 0 a 6 anni, dopo il latte l'ha avuto, non lo dovrebbe toccare, perché non ne ha assolutamente necessità. Il bambino andrebbe svezzato oltre l'anno di età, invece c'è questa costa allo svezzamento. Le mamme devono andare a lavorare, perché se no non sono emancipate, invece devono stare a casa a dare a tre bambini, perché quella porcheria del latte che danno, il latte artificiale, contiene rame solfato, è lo stesso rame solfato che viene spruzzato sulle viti per evitare che vengano parassitate. Cioè voi il vostro bambino lo spruzzereste col rame solfato? No. E allora perché viene dato nel latte in polvere? Perché questa è la verità. E soprattutto lo svezzamento per cose a 5 mesi, 6 mesi, la parte intestinale di un bambino non è pronta ad essere presentata e avere presentazione di allergie, di sostanze che non fanno parte dell'intestino del bambino. Questo perché? Perché purtroppo chi ci governa ha delle fonti di reddito che sono assolute e che sono appunto il petrochimico, l'energia, la sanità e l'alimentazione. A un certo punto i piccoli fattori sono stati fagocitati dalle grandi multinazionali che purtroppo non hanno le mani in basso soltanto in un settore, hanno le mani in basso in ogni cosa, dalla sanità alla pesca, dall'allevamento alle biotecnologie, tutto è gestito da poche grossissime multinazionali. La Monsanto. Io ogni volta che vado al mercato e guardo un pomodoro vedo questa immagine, spero che anche voi la vediate d'ora in avanti. Quando io pianto le mie piantine di lattuga nel mio orto personale non ho necessità di guardarmi in questa maniera, non metto neanche i guanti perché a me la terra piance, mi piace sporcarmi di terra, non c'è necessità di doversi proteggere. D'altra parte perché dovete mangiare una pesca che è stata innaffiata in questa maniera? Voi vorreste essere innaffiati insieme alla pesca credo proprio di no. E questo è quello invece che accade ogni giorno, per avere questo prodotto che è bello, bellissimo, non ammuffisce, si fanno il frigorissimo per 10-20 giorni e comodità, facciamo la spesa una volta al mese e invece mangiamo soltanto delle sostanze che non sono previste nel nostro organismo. Allora, antiparassitale, fitofarmaci, ormai c'è tanta conclusione. Quello che comanda tutto quanto è il mio denaro. In questi giorni c'è la diatriba, io non sono un ladrono, quindi non sono molto informato sul cuore di tutto in sé, c'è soltanto che qualcuno vuole che anche in Europa, così come è successo in altri granai importanti, ci sia controllato dall'OGM, non mai si sia OGM, è giusto? Ne parlerà dopo lei. La gente orange. Allora, questa è, io credo, una delle cose più oscure. La soia, geneticamente modificata, percresce la necessità che venga utilizzato questo antiparassitale, che è quello che veniva prodotto dal Monsanto durante la guerra del Vietnam per esfoliare gli alberi, venivano spostati, dopodiché passavano i signori della Dupont o della Dupont, non ricordo l'azienda, e sparavano il Napalm. Quindi voglio dire, queste persone che hanno prodotto queste porcherie, con le quali hanno ammazzato i poveri vietnamiti, ma hanno anche ammazzato gli stessi americani, i soldati giovani americani che andavano a combattere lì, sono quelli che producono anche il prodotto geneticamente modificato. Questa è una vera azione, è una cosa terribile. Quindi la gente non deve sapere, ma soprattutto è importante che non si chieda di non sapere. Monsanto, Panorai, Bread, Dow, AgroScience, queste sono la Sirene Sirente e la Dupont, sono le maggiori aziende implicate in questo genocidio, perché di genocidio si tratta. Ho voluto mettere questa immagine, io sono un mare di qualche anni fa, ci ho veramente creduto, ho creduto che fosse veramente la chiave di volta, la svolta per aiutare i popoli che non hanno da mangiare, che hanno problemi di salute. Questa patata, hanno preso una patata e praticamente l'hanno trattata con un batterio nel quale era stato innestato una parte del virus dell'epatite B. E quindi questa patata funge da vaccino, loro la mangiano e sono automaticamente vaccinati per l'epatite B. Per cui noi abbiamo detto che cosa meravigliosa, cioè questa è veramente una svolta vocale. E invece no, perché se voi prendete una patata e prendete un virus, sono fatti in maniera diversa, cioè loro hanno una possibilità di evoluzione completamente diversa, tempi di replicazione diversa. Per cui questa è un'aberrazione, è instabile. A un certo punto si è visto che dava tutta una serie di problemi che sono stati negati. Adesso in questi giorni c'è stato finalmente un lavoro pubblicato e non disconosciuto che è possibile trovare frammenti di DNA, di prodotti ogeni che circolano nel sangue, circolano nel sangue. Quindi questo vuol dire che non sono stabili, che sono pericolosi, che vanno ad inserirsi questi frammenti di DNA nel nostro DNA, soprattutto nel DNA dei nostri figli. quindi adesso ci sono tutta una serie di, diciamo, movimenti che si stanno risvegliando e che si tentano, come noi stasera, di risvegliare le coscienze, cioè di dire attenzione, qualche cosa è sbagliato. Cerchiamo di capire che cosa è sbagliato e perché sta succedendo. Alcuni anni fa il professor Arpard Kustai, 36 anni che lavorava in Irlanda in un laboratorio, un uomo molto stimato, era stato, il governo aveva chiesto che facesse il doppio cieco, il doppio cieco significa che loro i risultati finali non li sapevano e non sapevano se la linea di cave che stavano utilizzando era quella OGM oppure quella nutrita con patate normali. Alla fine di questo esperimento si sono resi conto che i topi nutriti con patate normale avevano una crescita normale, i topi nutriti invece con patate OGM presentavano una ipoevoluzione, erano nettamente sotto peso rispetto a quelli che erano stati alimentati normalmente, presentavano malformazioni fra tue spontanee osse. Inutile dire che lui è stato boicottato da tutta la comunità scientifica, è stato allontanato, non ha potuto ripetere gli esperimenti ed è stato proprio il governo che è intervenuto, ma non il governo irlandese, il governo americano. Lui da quel momento sta facendo una campagna per promuovere i suoi lavori e lui è stato un antesignano, dopo di lui tante persone hanno cominciato. 1959, io mi scuso se vado di corsa perché sono tante le cose da dire, 1959 l'Argentina diventa il primo laboratorio a cielo aperto senza che né il popolo né nessuno sapesse che quello che stavano trasformando, cioè una economia agricola bilanciata, c'erano cereali, c'erano allevamenti, viene trasformato in un mezzo laboratorio di soia OGM. Cordoba è sempre in Argentina, quest'anno la Monsanto è stata cacciata, è stata cacciata perché le falde acquifer sono state contaminate, le vacche sono state le prime che sono l'indice di avortività delle vacche era diventato così alto che qualcuno si è chiesto ma che sta succedendo e quindi hanno cominciato a rendersi conto che non erano soltanto le vacche, erano anche le donne che adottivano, avevano fetto malformato, i bambini che nascevano prematuramente o che prematuramente andavano incontro a numerosissime parodologie tumorali. Quest'anno la Monsanto è fuori dall'Argentina. Che cosa succede? Qualche anno fa l'Iraq, l'Iraq per chi conosce la storia sa cosa è successo, è stata distrutta l'economia agricola dell'Iraq perché hanno obbligato i contadini a comprare i semi di alcune aziende. Adesso c'è l'Ucraina perché bisogna trovare nuovi terreni da coltivare. movimenti appunto come quello di Magna Lanciva che dice che non è creare la vita, fare l'OGN, è distruggerla. Randa, credo che poi il professore ce ne parlerà, questa è molto carina, la strega non ha più bisogno di dover avvelenare la mela, questa non è una mela normale, è una mela geneticamente modificata che non diventa mai marrone. Prendine un pochino. I primi animali che risentono delle alterazioni dell'habitat sono i menonte e anfibi. Nel momento in cui scompaiono le api, scompaiono le veste, scompaiono le rami o presentano delle modificazioni vuol dire che c'è qualcosa di molto grave nell'habitat, loro sono la prima cartina di Tornasole. Diceva Einstein che nel momento in cui le api dovessero scomparire, l'uomo avrebbe soltanto 4 anni di vita. Perché tutto questo? Per esempio il problema della carne è un problema gravissimo, una mucca mangia 16 volte quello che mangerebbe un uomo, con lo stesso quantitativo di vegetali che darebbero lo stesso apporto energetico, e questa è la vera cosa drammatica, cioè mangerebbero comodamente 3 persone a differenza di una che è quella che invece mangia dall'apporto della carne. Non ci dovrebbe essere la fame nel mondo ancora, non ci dovrebbero essere persone che non hanno da mangiare, perché c'è un surplus alimentare, vegetale, pazzesco, che sarebbe sufficiente a sfamare non per una generazione, ma per chissà quante generazioni. Questo è un ulteriore olocausto quello che stiamo vivendo. Vi devo leggere questa cosa. Alcune persone attaccano la mia famiglia per via dell'eccessiva influenza che si dice esserciteremmo nella vita politica americana e nelle istituzioni economiche. Alcuni addirittura ritengono che noi siamo parte di uno scuro progetto che cospirerebbe insieme ad altre persone nel mondo per creare una struttura politica ed economica maggiormente integrata, globale, se vogliamo. Se questa è l'accusa che ci viene mossa, lasciate individere che mi dichiaro colpevole e che sono anche orgoglioso. David Rockefeller. Forse ci sarà tempo e modo poi di parlare in altre occasioni di questi problemi. Kissinger con Aldo Moro. Aldo Moro si era apposto tenacemente a tutta una serie di introduzioni e allargamenti nel campo dell'agricoltura e Kissinger lo minacciò di morte. Kissinger ha avuto il Nobel per la pace e Noro è morto. Questo si commenta da sabato. La nazione che distrugge il suo suolo è una nazione che distrugge se stessa e questa è l'evoluzione verso una cieca accettazione. La gente è alimentata dall'industria alimentare che non si interessa della salute ed è curata dall'industria farmaceutica che non si interessa dell'industria alimentare. Chi non ha tempo per mangiare sano può trovare tempo per curarsi invece. La Food and Drug Administration è quella che regola a livello americano severissima, ma severissima fino a un certo punto perché se andiamo a vedere poi l'organigramma di chi sta nella Food and Drug Administration troviamo le stesse persone che poi avevano fatto l'amministratore delegato, il presidente delle petrochimiche di tutte quelle aziende che contaminano. Per cui è possibile utilizzare mercuriali, è possibile utilizzare bifenoli, è possibile utilizzare l'Igm, ma non è possibile, non è legale, è possibile essere perseguiti se si beve il latte di musca appena morto e questo dà il senso in che condizioni viviamo. Da pochissimo c'è stata la storia dell'Igm e come è successo? Come si è scoperto che le incozze avevano la diossia? Semplicemente perché una pelleata molto attenta è andata a... si è reso conto che i bambini avevano più o meno tutte e le stesse patologie, per lo più gastrointestinali e allora si è intetta, non mangiano le cose, non mangiano questo, che cosa sarà? Ha chiesto un po' quel cacio ricotta locale che veniva prodotto localmente. Hanno mandato da Pignateri alle due forme di questo cacio ricotta e si sono resi conto che la concentrazione di diossina era 11 volte quella legale. Perché queste pecore pesco pascolavano insomma nei ritorni di tanto. Velocemente non si può parlare di tutte le porcherie che noi mangiamo, ho scelto giusto qualche molecola proprio perché, come riferimento, l'aspartame. L'aspartame è uno zucchero sintetico, noi lo troviamo nei cereali dei bambini, nelle bevande dolcificate, nella coca cola, nelle chewing gum, nelle caramelle, cioè dare questi ai bambini è veramente follia. La diet coke. La diet coke non dovrebbe assolutamente essere data ai bambini perché già nell'adulto dà tutta una serie di problemi, attacchi di panico, sensazioni allucinatorie. Pensate che nei tovi allevati con aspartame ci sono morie per patologie cartovascolari, ictus, infarto e crisi epilettica. Noi mangiamo, la carne che mangiamo è interamente contaminata da antibiotici. Il maggior uso di antibiotici non è a uso sanitario per le persone ma è a uso animale perché non c'è allevamento intensivo che non utilizzi la terapia antibiotica. Terminator è praticamente un, io ne parlerà poi il professore, io vi dico semplicemente che questo tipo di seme, di grano, è una delle cause di sterilità per un'intera generazione. Dato che questo seme non si riproduce, interagisce, c'è un cross linking con i spermatogoni dei maschi, tant'è vero che la fertilità è bassissima nei ragazzi che vanno dai 25 ai 45 anni, c'è un'intera generazione che non riesce a riprodursi perché i maschi sono sterili. Il grosso problema della carne data alle bambine è il telarca, che cos'è? Una precoce comparsa delle mammie in assenza di pubertà. Bambine di 6, 7, 8 anni che presentano già l'avvozzo della ghiambola mammaria e che non possono più toccare un po' di carne. Per quale motivo? A questo è interessante velocemente l'uso dell'olio. Perché dobbiamo utilizzare l'olio? Perché l'olio contiene il 70-80% di acido oleico che è lo stesso componente prevalente del nostro grasso. Per questo è come se noi prendessimo un grasso affine al nostro stesso grasso, a differenza di quello che succede per gli altri olismi. Lo sciroppo di glucosio viene utilizzato in ogni cosa che viene dolcificata che proviene dall'industria alimentare. Lo sciroppo di glucosio è praticamente un sistema per smerciare il mais in eccesso. Ma lo sciroppo di glucosio viene immediatamente trasformato in fruttosio che ha un grossissimo difetto. Non dice mai all'organismo sono sazio. Sono sazio. Per cui io non continuo a mangiare all'infinito perché l'informazione sono sazio non arriva mai al cervello. Ed è la ragione della nostra obesità. Perché non ne esiste una merendina, un biscotto, un gelato, una caramella che non contenga questo sciroppo di glucosio. La Francia ha tassato la Coca Cola e le altre valande zuccherate. In realtà andrebbero tassate in proporzione tutte le sostanze che contengono zuccheri aggiunti. E il discorso è lunghissimo. La margarina è stata spacciata come sale dal cuore e invece non è vero perché noi abbiamo l'olio di oliva che è un grasso polinsacuro. Invece questi sono grassi, sacri, a parte il fatto che la maggior parte degli oli di semi sono prodotti per via estrattivo utilizzando degli acidi da cui presenza e poi è scontrabile anche nell'olio stesso. L'alluminio e il morbo di Alzheimer. Non se ne parla. È recentissima questa scoperta. Il Basics Alp è responsabile dell'altissimo livello di alluminio presente nel cervello e nel sangue delle persone affette da Alzheimer. Da dove l'hanno preso? Si riteneva prima che fosse l'acqua il maggiore ventolo. Non è vero, sono i latticini. Perché? Per rendere la pasta morbida, per non farla colare, per non farla sfibrare, per far sì che le fette di formaggio siano bene bene, perché non si devono sbriciolare, perché il formaggio sia spalmabile, perché la sottiletta sia fondibile. Noi mangiamo porcherie, cioè prendiamo l'alluminio che ci macerà il cervello. Questa, vedete l'immagine centrale del cervello, con Alzheimer avanzato, è corroso, è disidratato, perché quello è il problema. Il problema di un cervello con Alzheimer, voi vedete una tag, vedete praticamente che è un guscio, il nostro cranio, vuoto. Gli endocrinistrator sono praticamente delle sostanze che si comportano come se fossero dei messaggeri. I nostri ormoni cosa sono? Sono dei messaggeri. Noi li prendiamo dal cibo, questi messaggeri, che sono dei messaggeri fraudolenti. Come è fraudolenta? E' veramente fraudolenta la pubblicità delle donne in menopausa che devono prendere la soglia. Questo è il messaggero fraudolento. Noi non sappiamo cosa, cosa dice all'organismo la soglia. Perché la soglia contiene appunto questi messaggeri fraudolenti, che funzionano come ormoni, ma noi non sappiamo quale messaggio ormonale loro portano. Perché non c'è un organo di riferimento per il quale sono stati prodotti. Io credo di dovertare spazio agli altri colleghi. Comunque c'è ancora. Grazie. Quindi mettiamo la votazione.